Crotone e Pitagora tra identità e rivoluzione. Cultura e identità ha proposto un evento nell'auditorio dell'Istituto Sandro Pertini. Serata moderata dalla giornalista Francesca Russo, che ha registrato diverse relazioni e offerto anche momenti musicali, con la cantante e docente di canto lirico Teresa Cardace, accompagnata da Francesco De Siena, pianista, compositore, docente a Crotone. Il nostro impegno da cinque anni a questa parte, da quando è stata fondata Cultura e Identità, grazie al nostro Presidente nazionale Edoardo Siros Labbini, è quella di riportare il più possibile in vetta quella che è la nostra identità, da un punto di vista politico, culturale, sociale, e riscoprire quelle piccole nicchie che il nostro territorio italiano, i nostri piccoli comuni hanno in maniera peculiare. Dal canto suo, Spartaco Pupo, ordinario di storia delle dottrine politiche presso l'Università della Calabria, ha parlato di Pitagora. C'è da riscoprire le tradizioni, le radici, le identità, che per molto tempo sono state un po' messe al bando, da una egemonia culturale che ci ha raccontato che l'identità pone dei confini tra le persone, tra le etnie, tra le nazionalità. Non è niente di più sbagliato. Crotone, per esempio, si identifica con Pitagora. Crotone è Pitagora, non può essere l'Apertusola, per esempio, che è il simbolo di un degrado, di un modello mancato, che è l'industrializzazione che in Calabria non è mai decollata. Se mai, dunque, Crotone è Pitagora, nel senso che riscopre nella figura di Pitagora la sua stessa identità, che è l'identità di una scuola di pensiero, di una storia, di un modo di approcciarsi anche alle cose pubbliche, alla politica. Sguardo rivolto invece all'archeologia, quello di Mariangela Preta, archeologa, direttrice del Polo Museale di Soriano. Cosa c'è di importante quando si parla di laminette orfiche? Sì, abbiamo affrontato il tema dell'orfismo legato a Pitagora e ai rinvenimenti delle laminette orfiche, soprattutto nel territorio calabrese. Le abbiamo messe a confronto con le altre laminette che sono state rinvenute nel bacino del Mediterraneo e abbiamo visto come questa religione era diffusa proprio qui in Magna Grecia grazie ai rinvenimenti, ad esempio, dell'antica Petelia, cioè la città di Strongoli o l'antica Ipponion, la città di Vibo Valencia. Grazie. Grazie. Grazie.